Buongiorno a tutte e a tutti, sono Don Raffaele Donneschi, missionario diocesano Fidei Donu, qui di Brescia, attualmente in Brasile, da tre anni, nella diocese di Macapá, per chi non avesse l'idea di dov'è, è nello stato amazionico dell'Amapá. Siamo sul rio delle Amazioni, casa nostra è a 500 metri dal grande fiume e a un chilometro dall'Equatore. Vivo là da tre anni con Monsignor Piergiuseppe Conti, Don Pedro, chiuso sotto, Bresciano, mio compagno di scuola, sono attualmente parroco della parrocchia del centro, della cattedrale, noi abbiamo su 500 mila abitanti, così è la città, 13 parrocchie, fate un po' il conto, nel tessuto urbano che si va sempre più, espandendo verso nord. Allora qual è la necessità che Don Pedro e i sacerdoti locali stiamo vedendo? E' di costituire una nuova parrocchia, perché la zona nord, che la chiamiamo noi, è divisa da una strada a quattro corsie, barrata nel mezzo, per cui la gente che va a piedi non riesce a attraversarla, se no con delle passarelle ogni tre chilometri. E allora l'idea sarebbe quella di costituire, al di là delle due parrocchie che già ci sono sulla parte destra, per chi sale, per chi esce dalla città, due parrocchie sulla parte sinistra. Sono circa in tutto 60 mila abitanti. Si è presentata un'occasione, pochi mesi fa, di una famiglia che si ritrova ad essere proprietaria di una chiesa e di una casa, la storia è lunga, non vale la pena raccontarla, ma la mettono in vendita e hanno chiesto alla chiesa cattolica se era interessata ad acquisirla. E' una chiesa dove ci stanno circa 300 persone, la casa è grande, potrebbe essere addirittura un piccolo seminario, è in mezzo proprio a questi quattro quartieri sulla parte sinistra e abbiamo visto in questo un segno che dobbiamo muoverci. Oltretutto da Bresciani, Don Pedro il Vescovo dice perché non la intitoliamo al nostro illustre e santo concittadino Paolo VI. E qui è la proposta, la spesa per la casa, la chiesa e allora stiamo girando un po' per raccogliere un po' di fondi. La parrocchia, alcuni amici hanno già cominciato a contribuire e quindi siamo a chiedere ancora una volta che il Signore tocchi il cuore di tanti fratelli e sorelle, magari nel nome di Paolo VI, per poter realizzare questo sogno. Visto che il Vescovo va in pensione tra tre anni, vorrebbe lasciare questo segno concreto anche del passaggio dei Bresciani in terra Amac Pines. Grazie a tutti, arrivederci e pregherò e pregheremo per tutti voi benefattori. Visita il nostro sito cuoreamico.org o contattaci allo 030 37 57 396